Resteranno ancora nelle sedi provvisorie gli studenti del professionale Marconi dell'Isis Valdarno a rientro a scuola dopo le vacanze natalizie. Il presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, ha così risposto alla lettera che avevano inviato le famiglie degli alunni che si dicevano preoccupati per un rientro nella sede principale, dove sono stati eseguiti lavori provvisori di messa in sicurezza con reti applicata ai soffitti. Il crollo del soffitto e del controssoffitto si era verificato poche ore prima del suono della prima campanella. Sono adesso circa 500 gli studenti del professionale che potranno continuare ad utilizzare le sedi provvisorie distribuite tra San Giovanni e Montevarchi. Seppur questa decisione giunge tardivamente a soli tre giorni dal rientro in aula, ci sentiamo di ringraziare il presidente Polcri per una scelta che tutela i nostri figli ma che, a nostro avviso, evidenzia anche la fondatezza dei nostri timori circa la sicurezza del fabbricato, scrivono nella lettera i genitori. Ci aspettiamo, proseguono, che a questo punto tutti gli studenti possano concludere l'anno scolastico serenamente senza ulteriori sorprese. I genitori chiedono poi alla provincia che adesso si lavori alla riqualificazione definitiva del plesso, ma anche che l'ente si attivi per trovare soluzioni alternative per permettere agli studenti di utilizzare i macchinari di laboratorio ai quali al momento è impossibile cedere, in modo che la validità dell'anno scolastico non venga in nessun modo compromessa. Ci aspettiamo, concludono i genitori, che la provincia dia la possibilità a tutti gli studenti di terminare questo difficilissimo anno scolastico senza dover scegliere di sacrificare la propria sicurezza per il proprio percorso di formazione.